È arrivato il momento del primo viaggio europeo su Marte. Fissate la data, il 14 marzo 2016 il vecchio continente intraprende l'impresa di raggiungere e studiare il pianeta rosso con tanto di atterraggio sulla sua superficie. Succede grazie alla missione ExoMars, nata dal lavoro gomito a gomito dell'Agenzia Spaziale Europea e di quella russa, con un'importante partecipazione italiana. ExoMars è una missione strutturata in due fasi. La prima è quella che prende il via il 14 marzo. Per l'altra bisognerà aspettare maggio 2018. Funziona così. La sonda madre arriverà su Marte e resterà nella sua orbita per individuare la presenza di metano e di altri gas compatibili con la vita. Farà poi scendere un modulo chiamato Schiaparelli in onore dell'astronomo italiano Giovanni. Sulla superficie di Marte Schiaparelli porterà diversi strumenti tra cui una stazione meteo. L'obiettivo di questa prima fase è mappare Marte e averne anche un modello 3D.